Lukaku via dall'Inter. 70% Romelu Lukaku è sempre più lontano dalla conferma per la prossima stagione. Il nuovo infortunio subito dal belga. Unito all'ultima prestazione fornita con il Monza. Quando è stato il peggiore in campo. Sta facendo riflettere l'ambiente nerazzurro. I costi del belga. Il più pagato della rosa. Sono elevati e trattare un nuovo prestito con il Chelsea imporrebbe un ulteriore dissanguamento alle casse nerazzurre. Per questo in casa nerazzurra si stanno facendo dei calcoli. Vale davvero la pena continua a puntare su Big Rom. Marotta ha però già un piano di salvataggio. Via Lukaku è dentro un nuovo bomber a giugno e così l'Inter è costretta a guardarsi intorno per trovare il suo centravanti del futuro. Lautaro Martinet è l'unico intoccabile dell'attacco. Correa ha deluso sotto tutti i punti di vista. Edin Dzeko ha fatto bene ma non può continuare a giocare tutte le partite da titolare e Lukaku, ha finora dimostrato di essere stato un pessimo affare per i nerazzurri.